Io la vivo sempre in maniera a mille, nel senso che io comunque personalmente arrivo sempre in finale. Comunque vadano il livello dei giocatori, le squadre, gli eventi così, io sono in finale e sono il vincitore perché so che questa qui è la vittoria per me. La Coppa del Mondo è diversa da altre cose, facciamo un sacco di coppie, l'Africa, quella del Golfo, l'Europa, tutti quelli americani centrali, ma questo ha un effetto eccezionale e diverso da tutte le altre coppie. Pochi mesi dopo inizierà il tour. Ovviamente essendo un simbolo così ambito, un trofeo che viene rincorso quando i giocatori lo coccolano e se lo godono insomma, di conseguenza poi viene qua, viene sistemato, viene ridorato, viene rifatto un po' il look e poi riparte e torna alla FIFA.